Diceva il filosofo e sociologo Pierre Bourdieu che gli intellettuali nel quadro del capitalismo sono la parte dominata della classe dominante. Gli intellettuali infatti appartengono di diritto alla classe dominante, giacché, a differenza degli ultimi, dispongono di un capitale culturale e non di meno, per poter esistere, debbono vendere quel capitale culturale a chi più in alto di loro può acquistarlo. Sicché quel capitale culturale, questa la sillogistica conseguenza, dovrà sempre di nuovo glorificare i rapporti dominanti a beneficio di chi occupa i posti alti della scala sociale, che altrimenti non lo acquisterebbe. Ecco, in quest'ottica credo che si spieghi adeguatamente l'operato intellettuale di Roberto Saviano, il bardo del mondialismo che dal sontuoso attico di Nuova York propala il verbo politicamente corretto organico al pensiero unico. Roberto Saviano figura a tutti gli effetti come intellettuale engagé, impegnato, organico al blocco storico dominante della global class turbo finanziaria capitalistica, alla quale egli fornisce con il proprio capitale culturale una glorificazione ideologica. Ecco che lo vediamo pontificare dal suo sontuoso attico di Nuova York, di modo che le plebi, anziché rivoltarsi e battersi per compiere platonicamente l'esodo dalla caverna che le tiene in cattività, amino invece le proprie stesse catene. Questa è la funzione di mediatori del consenso, gramscianamente, che oggi gli intellettuali svolgono a beneficio della classe dominante. Tutte le grandi battaglie culturali del bardo mondialista Roberto Saviano si iscrivono a pieno regime nelle battaglie culturali che la classe dominante del pensiero unico, turbo capitalistico, globalitario sta conducendo ai danni delle nuove plebi nazionali popolari precarizzate e sempre più ridotte a condizioni miserrime di esistenza. Sicché nel nuovo conflitto di classe post 1989 troviamo in alto il signore globale elitario, in basso il servo precarizzato nazionale popolare che subisce le aggressioni che dall'alto il signore mondialista sta compiendo senza interruzione. E per parte loro gli intellettuali, nella maggior parte dei casi, e sicuramente il caso del bardo cosmopolita, svolgono la funzione di mediatori del consenso. Fanno cioè in modo che chi sta in basso, il servo nazionale popolare, anziché rivoltarsi per affrancarsi dalle catene, accetti l'ordine dominante a beneficio del signore globale elitario. Questa è la funzione degli intellettuali. Ed è per questa ragione che vediamo spesso scendere dal suo sontuoso attico il bardo mondialista per arringare e sermoneggiare, sempre in senso mondialista, ultracapitalista e plus immigrazionista. Cioè di modo che il suo pensiero legittimi, sempre di nuovi rapporti dominanti, induca gli ultimi ad accettare il dominio subito. Ecco allora che lo ascoltiamo, Novello Zarathustra, scendere dal suo sontuoso attico, indottrinare le plebi precarizzate dal nuovo rapporto di forza capitalistico, di modo che esse non si battano per i diritti sociali e per il lavoro, ma sempre e solo facciano proprie le battaglie che giovano i dominanti. Ossia accettino senza riserve la deportazione di massa di nuovi schiavi dall'Africa, chiamata pudicamente accoglienza e immigrazione di massa. Li educa e li ortopedizza disceso dal suo attico di Nuova York affinché accettino la distruzione degli stati sovrani nazionali, ossia il sogno dei mondialisti della deregulation sans frontier. Li educa ancora ad avversare il populismo, cioè ogni progetto di redenzione dal basso del servo nazionale popolare. Insomma, lo ripeto ad abundanziam, tutte le battaglie del bardo cosmopolita sono le battaglie della classe dominante contro la classe dominata, educata dal bardo cosmopolita ad amare le proprie catene. E quando egli ha compiuto il proprio lavoro ortopedizzante in senso cosmopolita risale ratto sul suo attico di Nuova York a godersi tutti i piaceri che la vita globalista gli rende accessibili. Ecco allora che si diletta con titillevoli aragoste rubiconde, si diletta con succulento caviale proveniente dai luoghi più remoti e si diletta ancora con degli inebrianti tartufi rigorosamente bianchi che ben poco hanno a che vedere naturalmente con le condizioni delle masse diseredate, degli sconfitti della mondializzazione. Questa è nell'essenza la vicenda che farebbe ridere se non facesse piangere, del turbo mondialista Roberto Saviano che rientra a pieno nel coro virtuoso degli armigeri e dei pretoriani del pensiero unico politicamente corretto e dei padroni del discorso mondialista e plus immigrazionista di completamento superstrutturale dei rapporti di forza a beneficio della classe egemonica che sta letteralmente conducendo un massacro di classe contro chi sta in basso, il servo nazionale popolare, che nemmeno più agli strumenti concettuali, le mappe categoriali per potersi organizzare nel conflitto e gramscianamente rovesciare i rapporti di forza.